Musica Musica Perché siamo tutte e tutti follemente preoccupati perché il contenuto del disegno di legge Pillon non solo mette in crisi gli ultimi 30 anni di evoluzione dei diritti delle donne Ripeti che cazzo hai detto? I bambini vengono ad essere divisi tra i due genitori e diventano dei pacchi postali L'80% delle separazioni le donne la chiedono per motivi di violenza domestica Ma che cazzo stai a dire? Secondo punto, abolisce il mantenimento per le molli e quindi prevede anche per i minori un mantenimento diretto Il che presupporrebbe che le donne Guadagnino come gli uomini Guadagnino come gli uomini